Ciao a tutti cali telespettatori e cali telespettatrici e benvenuti al telegiornale del presentatore Bambu questo è il telegiornale in cui dirò che gli animali hanno iniziato a franare dalla montagna ebbene si ragazzi, questo si tratterà di un evento paranormale scopritelo in questo episodio da Animals TV è tutto oh santo cielo, Lolo hai sentito? giò, perché avranno iniziato a franare gli animali? non lo so, magari i nostri protagonisti che sono straordinari potranno risolverlo mamma mia, io adoro Lumpa e la mia star perfetta, amo anche Givo e Zait tanto loro non fanno pasticci, vero? no, loro fanno solo cose buone allora andiamo a chiederle aiuto gli diremo che gli animali stanno iniziando a franare ok ok Givo, oggi non abbiamo nessun caso da risolvere eh già, eh già Lumpa, oggi non abbiamo nessun caso da risolvere possiamo prendercelo a questa vacanza? ok, va bene, non agitarti Lumpa Givo e Zait ciao Ozzy, che ci fai qui? Lolo sembra che gli animali hanno iniziato a piovere dal cielo per favore, animali detective, risolvete il vostro caso già, a me piacciono gli animali detective li vedo sempre su youtube mi raccomando, dovete risolvere questa faccenda gli animali hanno iniziato a franare dalla montagna per favore, risolvete il caso mamma mia, non mi... mi avete rovinato anche stavolta la vacanza che stavamo per prendere vabbè Lumpa, la prossima volta da prendere la vacanza noi andiamo buona fortuna ciao ciao ragazzi eh, ti pareva ora dovremo risolvere un nuovo mistero forse possiamo vedere la montagna andiamo alla montagna aspettatemi io non sento un odore nemmeno io sento odori oh oh meglio andarsene torna qui Lara che avete fatto a me? non vedete che sto andando via? vogliamo sapere perché frani dalla montagna non ve lo posso dire, è un segreto diccelo, oppure oppure non ti lasceremo andare no, vi dirò niente vieni qui ricordati che sono molto più forte di te Lumpa ciao ciao oh mamma è franata Lara ciao ciao Lara che sa cosa andremo a scoprire avanti aspettiamo che franino frum oioioioioi oh oh tu dimmi come avete fatto a franare la montagna è un segreto torna qui ahhh su ragazzi diamoci una mossa magari stavolta riusciremo a risolvere in caso avanti ragazzi continuiamo a vedere la montagna ciao a tutti pubblico di big toy story channel hanno iniziato a franare un leopardo e un leone nella montagna adesso è meglio che mi riposa arrivederci ma quello non era il presentatore già chissà cosa nasconderà oppure sarà lui il colpevole di tutto questo tu dici bene ragazzi la prima parte finisce qui quale sarà il mistero degli animali che franano dalla montagna sarà veramente tutto vero oppure è solo un piano fatto dal presentatore bambù mi raccomando fateci sapere cosa ne pensate di questo video e noi ci vediamo alla prossima non dimenticate di cliccare qui per iscrivervi al nostro canale youtube e qui per non perdervi gli altri video delicati ai vostri animali preferiti noi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti